benvenuti alla presentazione del servizio start il servizio start che ormai proponiamo da più di dieci anni sui computer nuovi acquistati presso di noi è un servizio che ci garantisce di consegnare all'utente finale un computer pronto e verificato sia esso un notebook o un computer da tavolo tutte le fasi che sono da effettuarsi sull'acquisto di un computer nuovo vengono svolte dal nostro tecnico in diverse ore di lavoro vengono pertanto verificata sia la struttura generale estetica del prodotto per escludere che ci siano imperfezioni di assemblaggio o imperfezioni costruttive sia tutta l'ottimizzazione software dell'ambiente microsoft in maniera che l'utente possa fruire utilizzare da subito il proprio computer vengono eseguiti tutti gli aggiornamenti del sistema operativo per garantirne la protezione e l'affidabilità per escludere i bug oppure vengono anche installati tutti quei programmi di largo utilizzo i programmi di largo utilizzo possono essere che non sono preinstallati spesso nei computer anzi quasi mai skype chrome 7zip rar per gestire i file compressi acrobat per la lettura dei pdf un programma di fotoritocco per il montaggio video per vedere i filmati per ascoltare la musica tutta una serie di applicazioni che vengono aggiunte da un nostro tecnico in maniera da garantire all'utente anche un ambiente software con diversi programmi già installati tutti i programmi che si possono installare perché non sono a pagamento e qualora l'utente acquisti programmi a pagamento verranno comunque installati da un nostro tecnico ad esempio microsoft office che non è mai gratuito o in omaggio col computer viene installato in fase in caso di acquisto da parte dell'utente nel suo nuovo computer in maniera che anche questo sia pronto all'uso stessa cosa possiamo dire degli antivirus se non viene acquistato un antivirus con il computer viene installato un antivirus gratuito in sostanza il fine ultimo o il nostro interesse è consegnare all'utente un computer nuovo preparato e verificato in maniera che la sua esperienza possa essere solo che positiva vengono anche introdotti dei video fatti sempre dal negozio per presentare e introdurre l'utente a tutte queste novità perché dobbiamo prendere in considerazione che non sono tutti esperti quelli che comprano un computer dell'utilizzo del sistema e con questi video possono avere un aiuto o essere accompagnati in questo nuovo mondo informatico un'altra cosa che stiamo adottando da diversi anni è l'introduzione dell'assistenza remota ovvero un programma che in caso di necessità e per piccoli interventi ci permette di collegarci in remoto al computer in maniera da sistemare piccole anomalie o piccoli settaggi che possono essere effettuati dal nostro tecnico collegandoci appunto in remoto via internet al computer del cliente senza che questo venga in negozio mi sembra di avervi detto tutto e spero che questa panoramica del servizio start vi abbia fatto un po' di chiarezza su quanto importante è da parte del negozio proporre questo servizio in acquisto dal computer nuovo vi ringrazio per aver guardato il video ci vediamo in negozio